L'iniziativa è molto importante innanzitutto perché contribuisce a dare anche della Lega un'idea di un movimento a 360 gradi e completo, quindi anche in grado di avere una scuola di formazione politica e poi secondariamente io credo che sia anche un forte messaggio culturale e politico, ormai la politica si fa esclusivamente sui social, ci si informa su internet, invece secondo me questo poi impedisce l'approfondimento, impedisce la riflessione e impedisce anche poi di andare a votare con una coscienza politica profonda, quindi io non posso vedere che in maniera più che favorevole iniziative come questa scuola di formazione che permette a chi si scrive di ragionare sugli argomenti d'attualità, sui temi più spinosi e più importanti, incontrare addetti ai lavori e formarsi una coscienza politica compiuta non solo sulle 140 battute di Twitter o sulle due minuti sentite in televisione, che per bacco benvengano, però non si può pensare di essere preparati solo informandosi così.